buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video come state tutto bene big marto qui per voi sono molto carico perché finalmente da ieri sono tornato a regime sarà un percorso molto lungo con l'obiettivo del rimini wellness voglio arrivare con una condizione fisica pazzesca poi chiaramente tutto dipenderà dalla gara dpl sono le otto e mezza e purtroppo sono finite le vacanze sto facendo la mia solita routine mattutina prima di andare a lavoro il mio tè infatti è già pronto e ora posso fare colazione però prima facciamo un veloce unboxing finalmente nuovi prodotti però raga prima di far vedere cosa c'è all'interno di questo bellissimo pacco vi chiedo di lasciare un bel like cerchiamo di arrivare almeno mille like ed iscrivervi al canale il vostro supporto è importantissimo per far andare avanti il canale possiamo finalmente partire con l'unboxing vediamo immediatamente la mia fornitura di gennaio protein muesli un semplicissimo muesli questo l'ho assaggiato a berlino mi è piaciuto tanto quindi li ho presi passiamo all'amino energy questo è il pre workout di foodspring ce l'ho già alla mela verde volevo assaggiarlo al limone con questo pre workout mi sto trovando veramente benissimo e qui c'è tutta la lista degli amminoacidi che troviamo all'interno di questo fantastico prodotto passiamo finalmente alle whey protein le ho prese al cocco queste qui ero un pochino scettico però ho visto che un sacco di persone comprano le proteine al cocco di foodspring quindi ho detto perché non provare la particolarità è che hanno le scagliette di cocco all'interno protein brownie un preparato molto interessante mi hanno accolto a berlino con questo prodotto e devo dire che è veramente tanto buono zinco e magnesio questo non può mai mancare nella mia integrazione pre nanna sempre 2 barra 3 pastichette a seconda di quanto sono stressato ho preso anche un pacco di barrette proteiche queste qui al cookies che sono il mio gusto preferito questo è il secondo pacco di barrette queste sono le barrette a più strati di foodspring che personalmente mi piacciono tanto all'interno troviamo le barrette in tre gusti differenti quindi avremo quattro barrette per ogni gusto queste sono veramente molto buone consiglio assolutamente passiamo poi a uno dei prodotti top questa è un qualcosa di spaziale crema spalmabile al cioccolato bianco con scagliette di cocco concludiamo l'unboxing con la protein cream duo sono curioso di provarla come primo passo della giornata abbiamo 200 grammi di yogurt greco 0 per cento poi abbiamo 60 grammi di protein muesli solita integrazione mattutina tre pasticchi di multivitaminico e due pasticche di omega 3 ad accompagnare come sempre da quando ci conosciamo una buonissima tazza di tè inglesi beach wow colazione finita adesso sto facendo scaldare la macchina se no esplode malamente guardate che bel tempo c'è a milano comunque raga sono carichissimo in iniziare questo 2020 questo percorso insieme a voi perché quest'anno sarà un anno molto difficile che mi metterà alla prova non solo sotto il punto di vista del fitness e del bodybuilding ma soprattutto per quanto riguarda la mia vita ci saranno tantissimi cambiamenti oggi però voglio iniziare facendovi vedere il mio peso attuale non è bellissimo però ci sta 113.6 entro il raduno del 26 gennaio voglio essere circa 105 kg vi ricordo raga 26 gennaio raduno alla palestra joyfield di milano ci divertiremo un sacco ci potremo allenare insieme parleremo di come crescere sui social dovete venire sarà un evento top fatemi sapere nei commenti se pensate o meno di venire arrivato al lavoro cafferino scusatemi per le clip di prima perché non si sentiva bene purtroppo con la macchina accesa traballavo un pochino il microfono perdeva il segnale quindi si sente un po male non ricapiterà più detto questo mi sono scordato di dirvi anche il macros che terrò li terrò fissi fino a che non sarò soddisfatto della mia condizione fisica starò 250 grammi di carbo 200 di prote e 50 di grassi molto bassi riuscirò a gestirmi macros della barretta veramente ottimi 9,6 di grassi 19 di carbo e 20 di prote test test che test test l'ho già staggiatta mille volte mi piace questa è la rachide croccante vedete l'interno com'è ben stratificato con vere noccioline questa barretta è il top spesa fatta come terzo passo della giornata abbiamo 140 grammi di tacchino 200 grammi di fiocchi di latte e un po' di gallette questi sono 150 grammi di gallette che mi mangerò nell'alto della giornata e poi ho anche un cocchino zero da 33 solitamente non mangio affettati per oggi non avevo voglia di farmi il polo quindi ho preso qualcosa di veloce ho preso il tacchino che è quello che contiene meno sale contiene all'incirca 1,4 grammi di sale per 100 grammi quindi su 140 grammi sono più o meno 2 grammi che li scalo dalla quota giornaliera complessiva che è di circa 5 grammi io sono molto attento col sale perché tendo a gonfiarmi d'acqua ora è 5.30 ho finito di lavorare gym time quindi pre-workout le restanti gallette e una banana da circa 130 grammi arrivato a casa quindi pre-workout odio questa casa perché ci sono delle luci pessime ve lo dirò sempre mi cade ogni volta la depressione perché non so in che modo mi si veda al meglio comunque L-carnitina creatina e oggi proviamo anche gli energy a minus gusto limone sono todo yellow, todo amarillo questo è il mio pre-workout as usual come al solito mi insegno pure l'inglese è giusto as usual non lo so magari ora mi criticherebbe ignorante non so l'inglese una scuola del mio pre-workout lemon flavor è un pre-workout molto molto perché dentro abbiamo citrullina, arginina, betalanina, BCAA ciao mi chiamo Mattia Matturelli e sono da Milano e mi piace la fatica shaker il vostro pre-workout e poi la pasta sono tutto detto dalla pagina 7777 di medio video oltre allo scopettino di ammino energy prendiamo tre pasticche di carnitina e altre quattro di creatina test test buono però preferisco quello della mela verde si sente tanto l'amino acido chiaramente questo è un pre-workout con basi di ammino acidi quindi è un pochino più amaro il sapore del limone si sente però preferisco quello della mela verde perché personalmente ritengo vada a semperare maggiormente l'amaro dell'amino acido quindi mela verde rimane ancora il mio preferito secondo workout dell'ultima settimana, quarta settimana oggi sarà un allenamento bello intenso il sesto workout di fila poi ho dovuto recuperare la settimana di capodanno inizio a sentire un pochino di acciacco fa niente scusatemi se le riprese non saranno al massimo però sono da solo quindi mi devo un attimino arrangiare musica 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 Grazie a tutti 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 In modo gradevole A tutti gli stetti della mia vita Chiudiamo qui questo video raga come al solito Spero che vi sia piaciuto Oggi sono riuscito a vloggato Situazioni differenti E mi sono divertito Mi piace vloggare Mi piace parlare con voi Quindi Grandi Ancora nuovi vlog Mi raccomando voi lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Seguitemi anche su Instagram Attivate tutte le notifiche del caso Così vi arriva un bel avviso Ogni volta che pubblico un nuovo video Detto questo Grazie di aver visualizzato questo video E ci vediamo In un prossimo Bella guys Ciao